Allora questa è l'interfaccia della versione 7 di FLAC 3D, è uscita da un anno forse, io sono ancora abituata a chiamarla nuova perché i prodotti TASCA non hanno un aggiornamento annuale quindi diciamo che è un aggiornamento che viene fatto mediamente ogni 2-3 anni in cui di fatto convogliano, che poi è un modo anche per convogliare meglio tutte le esigenze che ci arrivano, tutte le richieste di sviluppo che ci arrivano dai nostri clienti ovviamente TASCA ha comunque già il suo programma di sviluppo. L'interfaccia è nuova ed è soprattutto l'interfaccia su cui si stanno adeguando tutti i software TASCA, quindi anche il Tridec adesso l'ha adottata e piano piano le nuove versioni di tutti i software avranno la stessa interfaccia. Saranno tra l'altro, avranno anche la possibilità di fatto di più che dialogare proprio essere inglobati l'uno nell'altro con la versione 7, ad esempio il FLAC 3D ingloba anche per adesso il PFC con la possibilità quindi di effettuare calcoli contemporaneamente sia al continuo sia agli elementi distinti per cogliere meglio alcuni aspetti dei materiali geotecnici che sappiamo essere estremamente variegati e soprattutto essendo naturali anche di difficile descrizione Prima di passare all'utilizzo live del programma, ripeto per chi non conoscesse il FLAC 3D, giusto 2-3 slide per dirvi che cos'è, perché comunque è un programma che si distingue da quelli mediamente utilizzati nell'ambito professionale che sappiamo essere essenzialmente dei codici agli elementi finiti Mentre invece FLAC 3D e anche il fratello 2D sono codici alle differenze finite, questo vuol dire che se io parlerò magari di mesh durante questo webinar è perché mi sono sbagliata perché sono abituata a parlare di mesh, però è sbagliato, nel senso che non esiste un continuo che viene discretizzato a elementi finiti ma esiste un continuo su cui di fatto viene appiccicata una griglia per avere i punti lungo i quali andare a integrare in modo esplicito, in modo algebrico volevo dire, l'equazione del moto Quindi qui abbiamo l'equazione del moto definita a livello di equazione differenziale, nel momento in cui io vado a farlo in punti discreti del mio qua, abbiamo una funzione 1D, qua abbiamo un piano e ovviamente poi la cosa più generale passare al 3D, in questo caso io posso trasformare, se la risolvo solo in determinati punti, la trasformo, l'equazione differenziale a equazione algebrica ed è un'equazione in forma esplicita, quindi non devo invertire nessuna matrice e poi soprattutto è un'equazione del moto con cui io vado a rappresentare anche dei problemi statici inserendo uno smorzamento fittizio di cui però l'utente non si deve preoccupare perché si preoccupa il programma, quindi qui ribadisco solamente che si tratta di un'equazione del moto risolta in forma esplicita quindi non c'è nessuna matrice di rigidezza da invertire e questo comporta una serie di vantaggi notevoli Allora, prima di tutto, nel momento in cui inserisco delle non linearità, io posso seguire l'evolversi dello stato tenso deformativo senza dover iterare Poi l'altra cosa importante, diciamo che il punto 1 e il 3, forse al prossimo webinar inverto il 2 col 3 e l'altra cosa molto importante è che essendo un, diciamo risolvendo di fatto un'equazione del moto non mi spavento se devo andare a simulare un'instabilità fisica pensiamo ad esempio, che ne so, all'innesco di una frana e anche proprio al seguire proprio fisicamente l'evoluzione di questa frana questo sarebbe impossibile da fare con un codice elementi finiti in cui al limite riesco a valutare l'innesco e comunque con difficoltà però con codici elementi finiti non potrei decisamente invece seguire anche l'evoluzione delle non linearità e parlando appunto di evoluzione ovviamente si passa a ragionare dai piccoli e grandi spostamenti arriviamo al punto 5 per cui con un calco alle differenze finite un'analisi in grandi spostamenti non richiede un tempo di calcolo aggiuntivo oltre a questo citiamo anche il fatto che a parità di dimensioni e di tipologia del problema il tempo di calcolo aumenta con n alla tre mezzi dove n è il numero dei punti della griglia mentre invece in un calco elementi finiti aumenta con n alla terza dove n in questo caso è il numero dei nodi della mesh e poi ricordiamo anche che problemi di grandi dimensioni possono essere modellati con poca memoria proprio perché dicevo non esiste una matrice di rigidezza da memorizzare l'altra cosa molto molto importante che deriva dal fatto che non è un calcolo agli elementi finiti che sto semplicemente muovendomi lungo i punti della griglia è che la congruenza non mi interessa cioè non mi devo preoccupare di generare delle mesh che siano congruenti tra di loro e questo lo vediamo sarà molto utile anche tra poco proprio nelle modellazioni di cui vi parlerò oggi per quanto riguarda i legami costitutivi implementati non è questa la sede però giusto per darvi una panoramica abbiamo in realtà quattro volendo perché il livello due può essere splittato in due a sua volta un livello base diciamo in cui abbiamo essenzialmente un materiale elastico che può essere isotropo oppure anisotropo e poi i classici Morkulombuk e Brown ricordiamo anche il Dracker Prager nel livello due intervengono diciamo oltre ai Morkulombuk e Brown Dracker Prager che abbiamo già citato prima cioè intervengono questi e anche altri legami costitutivi come il plasticana e il cam clay ma la cosa importante dicevo del livello due è che possiamo anche valutare diciamo introdurre un'evoluzione post picco che può essere tipo hardening piuttosto che softening per il materiale e nel livello due dicevo intervengo sicuramente da mettere in evidenza quei legami costitutivi che sono utili per la simulazione del creep piuttosto che i legami per la simulazione della liquefazione quindi problemi di viscosità o di liquefazione o problemi che sono specifici perché sappiamo che in ambito dinamico il terreno si comporta diversamente legami che sono specifici invece per la parte dinamica e poi il livello 3 allora l'ho citato anche se in realtà diciamo normalmente viene sfruttato in ambito accademico però l'ho voluto citare per introdurre il fatto che FLAC 3D è un programma estremamente aperto e versatile grazie al fatto che ha almeno tre linguaggi di programmazione embeddati con cui posso fare veramente di tutto al primo po' la base più semplice che insegniamo anche ai corsi base è il linguaggio FISH che essenzialmente viene utilizzato per automatizzare alcune procedure che se no dovrei rifare manualmente tante volte tipo non so uno scavo per fasi ad esempio ma è anche embeddato il linguaggio di programmazione Python con cui riesco a interfacciarmi anche con il mondo esterno a FLAC per farvi un esempio il Python è quello che abbiamo utilizzato per costruire il link col MidasGen ma poi c'è anche il linguaggio C++ in particolare a livello di cioè offerto dai tasca per implementare dei nuovi legami costitutivi ok va bene vado avanti intanto controllo un attimo la trasmissione se sta andando tutto bene va bene sì ok chiudiamo qui apriamo il nostro FLAC allora ho quattro diversi esempi se faccio in tempo anche un quinto a me è un video però ho quattro diversi esempi da mostrarvi per quanto riguarda la modellazione di geometrie complesse allora parto dal più semplice che è appunto una modellazione di una galleria una galleria reale c'è stata prestata questo DXF da un nostro cliente che inizialmente viene modellata per estrusione è un esempio che secondo me qualcuno di voi che ha già partecipato ad altri webinar ha già visto però voglio in questa fase andarla a diciamo inglobarla all'interno di una modellazione che vediamo sarà comunque dopo l'estrusione un po' più complessa quindi magari alcuni concetti alcuni di voi li avete già visti per quanto riguarda l'estrusione seguiteli comunque dopo faremo un passettino avanti oltre all'estrusione quindi mi apro io avevo già preparato il modellino comunque lo rifaccio comunque da zero ok lo apro giusto per sicurezza tanto dovrebbe essere infatti l'avevo salvato così che non si vedeva nulla così non tolgo la sorpresa allora quindi il primo esempio che andiamo a modellare lo facciamo attraverso l'ambiente extrusion aprendo la tendina paints vediamo tutti gli ambienti di cui è costituito il FLAC 3D quindi a partire dalla console che è semplicemente questa parte qui sotto che mi serve essenzialmente per farmi vedere come sta andando la soluzione durante l'analisi piuttosto che per darmi warning piuttosto che messaggi di errori project e il progetto lo state record è molto interessante lo state record perché mi permette di quando io adesso proprio oggi lo vediamo quando io vado a utilizzare l'interfaccia FLAC 3D mi fa il favore giustamente essendo nel 2020 di scrivermi quali sono i comandi proprio in termini proprio di righe di comando che corrispondono a quello che io sto facendo graficamente e quindi io poi posso salvarmi queste righe di comando e far diciamo rifare graficamente qualcosa quindi rifare graficamente il mio modello semplicemente lanciando un file di testo che lui stesso mi ha scritto adesso questo proprio lo vedremo vedremo l'ambiente extrusion i building blocks è l'ambiente quello più vecchio di modellazione è interessante a parte il fatto è interessante perché si interfaccia sia con l'extrusion sia con il geometri il geometri sarà il protagonista di oggi però diciamo che il building blocks comunque anche da solo può essere utilizzato per fare dei modellini semplici ed è proprio l'ultimo video che volevo mostrarvi vabbè il model è lo screen dove vedo il modello poi c'è l'ambiente geometri che non vi anticipo nulla e poi vedete che c'è il python l'ambiente appunto di programmazione python mentre invece il fish che dicevo è proprio inglobato all'interno dei comandi non c'è bisogno di un ambiente esterno è proprio embeddato nei comandi di flac quindi apriamo l'ambiente extrusion si è messo qui sotto scusate devo rifarlo ok perfetto creiamo un nuovo layer ad esempio lo chiamiamo tunnel ok e andiamo ad importare un file di xdf che c'è stato gentilmente prestato da questo cliente e vedete che il file di xf che rappresenta appunto una galleria con la parte interna di scavo l'arco rovescio qui lui il nostro cliente aveva deciso aveva dato lo spessore al rivestimento definitivo interno perché voleva modellarlo con le zone cioè sarebbero gli elementi di volume si poteva anche usare un elemento strutturale ci sono ci sono diverse tipologie di elementi strutturali in flac 3d ovviamente però questa era stata una sua scelta poi aveva in dxf indicato una zona di terreno consolidato e questo viene importato all'interno dell'ambiente extrusion come un'immagine adesso noi che cosa facciamo andiamo a costruire innanzitutto con questo comando un terreno intorno ovviamente quindi possiamo creare i vari nodi e poi andiamo a posizionare meglio questi nodi questi numeri molto grandi derivano dal fatto che era in millimetri il dxf ma non mi spaventa perché flac 3d non usa unità di misura è l'utente che si deve preoccupare di dare tutto tra loro le grandezze in modo coerente e facciamo così questo diventa meno 10.000 meno 5.000 la y ok questo diventa 12.500 e l'altro e la y diventa meno 5.000 qui andiamo su 12.500 la x e poi 10.000 la y ok e alla fine l'ultimo che è meno 10.000 quindi posso cambiare le coordinate puntualmente di quello che ho disegnato prima a mano libera poi posso definire dei seed quelli che si chiamano i seed e i midas si chiamano così non so se è un linguaggio universale vuol dire praticamente la discretizzazione degli edge per guidare il passatemi il termine il meshatore anche se qui abbiamo detto ho spiegato che la mesh non esiste ok questo posso farlo scusate da qui set default edge per cui in questo modo lui mi fa quando io lancerò diciamo il seeding per la parte interna che ancora vedete non è ricoperta da edge mi dividirà ogni tratto in 4 possiamo ad esempio scegliere un 2 che mi sembra io ho già fatto le prove mi sembra un po' più adatto mentre invece possiamo specificare meglio questo ovviamente in 2 è troppo grossolano quindi possiamo specificare meglio invece questi lati che sono molto grandi io avevo preparato tipo un 100 mi sembra esagerato tipo facciamo un 50 ecco una cosa fatta così benissimo allora se adesso noi lanciamo automatically create edges dall'immagine vedete di background ok e lui ha praticamente ogni tratto del XF l'ha suddiviso in due parti come gli ho chiesto io poi ovviamente adesso non è un corso non posso andare nel dettaglio però ad esempio io qui ho un arco che magari secondo me è spezzato in modo molto grossolano allora posso lanciare un edge un seeding scusate molto più posso lanciare un seeding molto più fitto in modo che segua meglio la curva e poi con questo comando che vedete qui comunque fare una combinazione di quegli edge per ottenere veramente una curva perché in questo ambiente sono possibili oltre alle linee anche curve ed archi ok però questo proprio per motivi di tempo comunque non è un corso non ve lo mostro con questo comando vado a creare la vera e propria mesh e questo per quanto riguarda la sezione trasversale poi siccome è molto importante la gestione la creazione di gruppi per poter ad esempio fare uno scavo per fasi perché io voglio poter dire ad esempio che voglio scavare non so prima questa parte poi questa parte sotto voglio poter dire al programma che i piedritti devono essere in calcestruzzo armato costruiti prima della calotta non lo so comunque la creazione di ogni entità scusate l'inserimento di ogni entità in gruppi è fondamentale questo posso farlo già addirittura nell'ambiente extrusion cioè basta selezionare che ne so questa parte qui e il gruppo lo posso chiamare scavo uno e gli do l'invio ok questo più che ne so questo a parte più questa parte diventa arco rovescio ad esempio questi gruppi vengono già questa esterna la chiamerò che ne so fondazione ad esempio i gruppi posso già crearli in questo ambiente senza preoccuparmene dopo vi anticipo nello state record che era l'ambiente che vi dicevo vi accennavo prima vedete lui mi sta scrivendo praticamente tutti i comandi a livello proprio di sintaxe di comando che passa al modellatore e poi al solutore che sono corrispondenti alle azioni grafiche che io faccio a video questo lo voglio sottolineare nel caso qualcuno di voi cioè perché i programmi task in generale hanno una nomea piuttosto negativa perché comunque sono quelli che fino a pochi anni fa ancora non avevano una grafica sviluppata ma dovevano scrivere tutto giustamente task ha voluto conservare perché adesso non riesco a farvelo vedere però è molto potente il fatto di poter agire anche direttamente a livello di riga di comando e quindi task ha voluto conservarlo però adesso io posso lavorare graficamente e questi comandi vengono scritti da FLAC quindi io devo solo fare un tasto destro copies data file e me li metto via e mi salvo il mio file di input cosa che fino a prima della versione 7 forse sicuramente prima della versione 6 per il FLAC 3D non potevo fare ok quindi detto questo va bene una volta fatto questo devo anche fare occuparmi della parte dell'estrusione cioè quella lì era solo la sezione quindi ad esempio clicchiamo qua e diciamo che lo estrudiamo di non so 15 metri e questo anche nella parte trasversalmente gli diamo degli edge scusate una discretizzazione degli edge ad esempio 50 in questo caso lui mi automaticamente qui non ho bisogno di creare dei gruppi perché automaticamente lui mi crea i gruppi per cioè nel senso posso sì posso inserire anche qua un point edge così e lui mi crea due gruppi ma lo fa in automatico li chiama segment questo sarà il segment 1 se ne metto un altro qua sarà il segment 2 e questo è il segment 3 e già mette dei gruppi lui ma poi cosa importante io qui avrò una suddivisione a volumi finiti non li chiamo elementi finiti chiamiamoli volumi finiti che mi permetteranno poi di avanzare poco a poco con il mio con il mio scavo perché posso andare piano piano a rimuovere queste fette ok va bene con questo comando io faccio l'estrusione e quindi adesso nell'ambiente model si stesso vedete questa cosa brutta perché lo sta creando ok facciamo ctrl r per lo zoom e quindi ha creato il mio qua vedete nello slot construction quei pochi gruppi che avevo creato mentre nello slot segment si i tre segmenti che lui mi ha creato in automatico va bene fatto questo e qui forse questo chi ha visto webinar precedenti quello sulle novità del flac 7 credo che questo l'abbia visto facciamo un passettino avanti e questo ci piace lo lasciamo così andiamo a far interagire l'ambiente extrusion che abbiamo usato adesso con l'ambiente geometry quindi apriamo paints geometry e qui va bene a parte che in geometry vedo tutto quello che ho già che che esiste già nel nel programma però non è questo che mi interessa possiamo creare un altro set lo chiamiamo surface surface ok e in questo set qui andiamo a importare una mesh ottenuta da un rilievo topografico quindi un rilievo in situ fatto ad esempio con laser scanner poi sapete che i risultati di questi laser scanner poi passano in programmi che vanno che qui in particolare vabbè io vi suggerisco nel senso rhino è quello che tasca suggerisce ha fatto anche un plug in dei suoi programmi per per rhino però veramente ovviamente chiunque può usare qualunque cosa perché sono tantissimi questi software che vanno a post processare queste numbele di punti e qui in particolare è stata creata una superficie che poi è stata triangularizzata a partire da un rilievo ok una cosa che devo fare prima è una allora adesso questo punto per ragioni di tempo non riesco più a fare tutto live quindi avevo già preimpostato il file di input vedete questo file di input con queste righe che sembrano in diciamo insomma illegibili è quello semplicemente ho fatto un copy in colla di quello che lui mi ha scritto precedentemente ho fatto un copy in colla di quello che lui mi ha scritto quando io lavoravo graficamente questo qua è l'import il comando per l'import che ho appena fatto mi ha trascritto anche questo l'ultima cosa che bisogna fare è fare un geometry translate perché perché io ho creato la mia scusate il mio modello nelle coordinate che avevo in un DXF che mi ha dato un cliente quindi che diciamo che mi ha dato un operatore della filiera e poi ho ottenuto la superficie da un altro operatore che me l'ha messa in un'altra posizione e quindi qui semplicemente col comando di geometry translate ho semplicemente dovuto devo andare a traslare la superficie qui ho scelto di traslare la superficie rispetto al tunnel ma potevo fare anche diversamente dopodiché quindi lancio un attimo questo così è pulito rifà esattamente quello che ho fatto io però almeno è pulito ok dopodiché quello che andiamo a fare è andare a colmare diciamo il vuoto che esiste tra la fondazione che ho modellato attorno al terreno e la geometria che ho importato questo è semplicemente un comando che è traducibilissimo perché mi dice crea le zone genera le zone dalla topografia dove quella che si trova dentro il layer che hai chiamato surface dividimi in 20 fammi una seeding di 20 e poi va bene ratio 1 vuol dire fammi gli elementi tutti uguali quindi se io lancio anche questo file mi ritrovo praticamente con questo questa cosa qua ok cioè praticamente io ho che il mio aspettate che si è partito da lì esatto quindi essenzialmente io mi ritrovo che da dove io ero arrivata con il mio tunnel arrivo praticamente fino lui mi fa un'estrusione per arrivare fino alla superficie tra l'altro qui forse si intravede si intravede magari qua che siccome diciamo la pianta della fondazione è più larga della mia superficie FLAC prende la come dire la decisione comunque la ragione in questo modo di fare il di continuare parallelamente alle quote a cui è arrivato ok 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 allora adesso qua in realtà dovrebbe vedersi già nello slot construction la galleria sotto questo non so perché non si veda provo un attimo a rilanciarlo un secondo perché dovrebbe vedersi nello slot construction nel nel gruppo dello slot construction vediamo un secondo al limite se no ve lo vi rimando non so devo verificare il file però già nello slot construction dovrebbe vedersi ok allora facciamo così scusate faccio un altro tentativo facciamo un model new allora faccio un altro tentativo se no poi ve lo vedo ve lo dico come mai non si vede in quello slot lì non ci sono i gruppi che avevamo fatto se no poi passo avanti se no perché non abbiamo tempo vediamo un attimo se è una questione di refresh no lo faccio un'ultima volta scusatemi sembra strano c'è il programma che fa qualcosa di strano aspettate un secondo no forse non avevo salvato quei non avevo salvato quei comandi che vi ho fatto vedere probabilmente questi erano salvati solo a metà per questo motivo ok ve lo voglio far vedere scusate questi non erano salvati non avevo salvato tutti i comandi va bene ve lo rifaccio un secondo perché ci tenevo è ancora un peccato scusate un secondo allora usate ok allora facciamo così facciamo così no però no scusate rischio di perdere troppo tempo no il problema è semplicemente questo che qui dove in questo file ho salvato i comandi diciamo per la costruzione di questa di questa parte qui ma non poi la parte non ho salvato la parte dell'estrusione nel model semplicemente questo e quindi di fatto quando io richiamo il file non non mi non mi rigenera le zone con il con il con il tunnel qui ok scusatemi se mai posso fare così vi posso mandare una correzione al video del webinar faccio così ho dimenticato questo comunque mi preme la cosa importante cioè che mi interessava e farvi vedere questo cioè spero che si sia capito cioè che poi qui se avessi salvato i comandi ci sarebbe stata la mia galleria così come ve l'ho fatta vedere prima con la suddivisione in gruppi e poi semplicemente il programma parte da dove io ho costruito il diciamo il top della mia fondazione e fa un'estrusione fino alla superficie topografica che ho importato quindi questo è un esempio di collaborazione di due diversi ambienti quindi questo penso comunque che si sia capito perché prima comunque avete visto la galleria ok questo qua era il primo esempio poi per quanto riguarda il secondo esempio passiamo invece al completamente a lavorare all'interno dell'ambiente geometri per far questo apro un altro file che è questo qui plinto ok e parto da rhino allora l'idea qual è anche qui avevamo appunto l'idea nasce da una richiesta che ci è stata fatta da un nostro cliente per cui essenzialmente bisognava calcolare questo plinto di fondazione di un palo per un ripetitore per la telefonia e FLAC3D è perfetto perché voglio dire è una fondazione di notevoli dimensioni in cui sicuramente il diciamo il calcolo corretto viene fatto tenendo in conto l'effetto sul terreno ad esempio dei carichi ciclici del vento e quindi diciamo che sicuramente per una fondazione di queste dimensioni di questo tipo il protagonista forse mi azzardo dire che non è tanto il programma di analisi strutturale ma quanto quello di analisi geotecnica tra l'altro ovviamente come comunque programma di analisi geotecnica che si rispetti al di sotto del plinto quindi tra il plinto e il terreno di fondazione io posso andare a simulare un'interfaccia quindi un'interfaccia che mi simuli che ne so del magrone che esiste tra quindi posso non mettere una perfetta continuità che per un'analisi tra il plinto e il terreno che per un'analisi di dettaglio di questo tipo sarebbe effettivamente riduttivo allora come è stato questa la geometria è piuttosto complessa perché comunque ci sono comunque dei dettagli geometrici piuttosto complessi che è meglio che vengano fatti all'interno di un modellatore allora questo è stato fatto ad esempio in Rhino in Rhino che cosa è stata fatta la modellazione però potevate usare ecco io parlo di Rhino e per alcune cose che vedremo dopo neanche io ho usato Rhino ho preferito usare il Midas NX Plus con cui sono più schillata da parte della famiglia Midas potete usare l'AutoCAD cioè penso qualunque modellatore vada bene comunque abbiate penso che abbiate sicuramente dei modellatori ora che cosa è stata fatta è stata fatta una mesh esterna della pelle esterna cioè questo è vuoto dentro non è una mesh di solidi è una pelle esterna che è stata esportata in formato STL l'ambiente geometry ingloba sia se è comparso sempre sotto facciamo un facciamo un layout wide ok allora scusate voglio farlo comparire qua sopra questo lo chiudiamo paints geometry ok l'ambiente l'ambiente geometry permette di importare essenzialmente file DXF piuttosto che file in formato STL come era la superficie di prima quindi io posso andare a importare nel mio ambiente il mio plinto eccolo qua allora l'ambiente geometry può diciamo inglobare anche direttamente delle mesh solide attenzione però personalmente ho constatato che poi per la creazione delle zone quindi dei volumi finiti con cui lavorare è molto 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 più veloce dargli una pelle esterna che ingloba il volume e far fare a lui la mesh anche perché anche perché sicuramente FLAC 3D ottimizza se fa lui lasciamo fare a lui la mesh di solidi ottimizza la mesh come meglio per il suo solutore proprio intendo dire il tipo di elemento quindi io suggerisco sempre di fare le pelli esterne e importarle però vabbè fino qua ok quello che diciamo è più difficile è che dentro questo plinto potete immaginare a circa un milione di armature quindi in quel caso lì vabbè le armature sono state differenziate in diversi di XF perché anche qua sono state differenziate in diversi di XF perché così è stato molto semplice importandole poco alla volta andare a creare degli specifici gruppi è importante creare i gruppi perché dopo quando io dovrò assegnare le proprietà delle sezioni devo andare a ripescare nel marasma di armature quali sono i Fi 12 quali sono i Fi 20 i Fi 25 i Fi 32 ok e quindi è stato già sono stati già preimpostati i di XF di conseguenza ok togliamo la trasparenza così si vede meglio quindi ad esempio ci sono i ferri circonferenziali i Fi 12 poi ci sono che ne so sempre i Fi 12 radiali poi ci sono i Fi 20 circonferenziali insomma sono potete immaginare che un plinto di questo tipo ha una quantità di ferri pazzesca e quindi qua ci sono tutte le varie tipologie di armature come dicevo beh in realtà non c'entra quello che dicevo all'inizio vabbè la cosa importante è questa ok adesso se apro il file data geometry questo spero sia completo sinceramente non so perché prima mi è sfuggito scusate veramente di copiare un pezzo di listato qui vedete che ho semplicemente messo in ordine messo diciamo richiamato tutti i comandi dell'import che lui mi ha scritto nello state record e qui tra l'altro ho già assegnato i vari gruppi e perché dopo qua vedete le righe di comando struct cable mi va a creare appunto gli elementi truss quindi gli elementi cable con diciamo adesso quale proprietà non glielo ancora date però mi differenzia i vari gruppi mi crea gli elementi truss differenziati per i vari gruppi e quindi poi sarà facile assegnare le proprietà lanciamo questo crea anche direttamente le zone quindi vi lancio questo file ma stavo dicendo non mi devo preoccupare minimamente qua che ci sia la congruenza tra le armature e il il plinto perché vabbè non è legato tanto alla questione della congruenza che dicevo prima quando vi faccio vedere le slide quanto invece al fatto che intanto che lui crea il plinto vi apro la la presentazione quest'altra elementi strutturali è legata invece piuttosto al fatto che gli elementi cable sono scusate sono degli elementi embeddati cioè vuol dire che sono dotati di interfaccia quindi anche se i nodi degli elementi truss che rappresentano le armature non coincidono con quelli del plinto non importa perché comunque i cable richiedono anche l'inserimento di una sorta di interfaccia questa è una sezione del cable nella parte centrale ho l'acciaio in questo caso e poi ho il grouting e nel grouting io darò di fatto l'aderenza simulerò l'aderenza delle barre con il plinto già che vi parlo degli elementi strutturali vi ricordo che lo stesso discorso vale anche per geogriglie e liner che sono elementi invece due di elementi bidimensionali che hanno appunto la possibilità di creare questa interfaccia tra l'altro il liner anche su entrambi i lati quindi quando vi parlavo prima della galleria in cui ho detto il cliente ha preferito simulare il rivestimento con delle zone ma si poteva usare un elemento strutturale era perfetto ad esempio il liner con la sua interfaccia con il terreno circostante ok va bene qui abbiamo il modello questo terreno qui l'avevo fatto forse importandolo direttamente oppure ho fatto un'estrusione vediamo un attimo non mi ricordo no avevo estruso semplicemente un rettangolo per simulare anche il terreno al di sotto e quindi questo qui vediamo se ho anche magari un plot sì avevo anche un plot eccolo qua che metteva in evidenza tutte le varie armature all'interno del plinto poi qui sotto ci andrò a mettere un'interfaccia anche questo lo posso fare molto facilmente a livello grafico e poi mi devo ricordare di copiare i comandi questo qua è una cosa grafica che avevo già notato però è solo una cosa grafica non so perché lo faccia o chiedere di tasca quindi qua io posso passare a visualizzare visualizzare le facce piuttosto che il solido e quindi posso andare a selezionare la faccia qui sotto e posso andare con il comando grafico create an interface qui a creare un'interfaccia tra il terreno e la base del plinto poi ovviamente vabbè immagino che ci sia anche del terreno qui sul lato quindi applico la stessa interfaccia posso applicarla qui e qui sopra mi ricordo che il cliente mi aveva chiesto di simulare invece proprio un carico dovuto al reinterro quindi dopodiché una volta che ho creato le interfacce apro il mio ambiente state record mi copio i miei comandi copio as data file e me li copio nel file di input che poi mi salvo infatti quello che vi ho fatto vedere adesso io vi ho fatto vedere solamente l'inizio della modellazione però il plinto di fatto è stato creato facendo un run con questo tasto oppure qui tasto destro call facendo un run del facendo un run appunto del tutti i comandi che avevo salvato ok perfetto poi detto questo facciamo un passettino avanti ancora e sempre guardiamo l'ambiente geometri sto andando un po' lunga però se rimanete mi fa piacere perché gli argomenti sono ancora molto interessanti quelli che vi devo far vedere allora facciamo un passettino avanti e andiamo ad aprire un altro file invece di un altro cliente che ci ha chiesto questo questo scavo di gallerie è uno scavo di gallerie che però non possono essere ottenute per estrusione perché in pianta sono molto irregolari quindi se vi apro il anche qui abbiamo usato rhino se vi apro i file i file cad no sta importando l'stl però devo fare apri no scusate qua siamo qui 3dm eccoli qua allora non so se farvi vedere prima l'uno poi l'altro facciamo prima l'esterno ok ecco praticamente questo qui è il terreno diciamo da considerare nel calcolo e qui dentro si vede l'impronta delle gallerie da scavare tre gallerie partendo da questa direzione qui poi ci si allargava per costruire questo cunicolo poi si entrava e si andava a scavare partendo da queste tre gallerie tutta la galleria centrale qui dentro terreno molto buono calcarenite quindi vabbè il calcolo poi non ha dato veramente nessun tipo di problema ma come abbiamo fatto a modellare questo e beh è stato anche qui abbastanza semplice perché si è preso un modellatore anche qui noi abbiamo usato Rhino potete usare non so siete clienti Midas il Midas NX potete usare l'AutoCAD va bene lo stesso la cosa importante è che possa fare quello che ci interessa è che questi modellatori possano fare un taglio di un solido dentro l'altro perché in questo modo facendo il taglio di questo solido che abbiamo il file anche di quello era l'altro lo scavo questa qui è la forma esatto dello scavo questo è stato prima modellato come un solido poi è stato modellato il terreno come un solido pieno è stata fatta un'operazione booleana del solido da scavare dentro il terreno e quindi praticamente il solito esterno ha acquistato dentro l'immagine il negativo il negativo del terreno da scavare dentro fatto questo abbiamo fatto un'esplosione quindi il solido è diventato shell e abbiamo fatto poi la mesciatura 2D delle due pelli e queste sono state importate in FLAC 3D vi faccio vedere già direttamente il run perché i comandi voglio dire li abbiamo visti il comando è il comando geometri dove qui pian piano comincio ad importare le varie parti la pelle diciamo la parte interna ah no ecco no una cosa importante aspettate una cosa importante che non vi ho detto allora file open stavo dimenticando ecco che qui i gruppi come prima sono stati già preimpostati qui vabbè io per farvi vedere ho fatto lo scavo solo di questa parte qui ma in realtà tutte tutte le gallerie dovevano essere già suddivise in gruppi suddividere in gruppi vuol dire che si vede già qui comunque se facciamo un spostiamo no non questo questo e lo spostiamo vedete che cosa significa aver suddiviso in gruppi che c'è che praticamente ogni gruppo di scavo è di fatto costituito da una mesh chiusa una pelle chiusa vedete una pelle chiusa anche questo qua se prendo e lo sposto è una pelle chiusa che poi appunto viene importata in FLAC 3D lui vede una pelle chiusa e quindi costruisce le zone solide all'interno e le costruisce essendo delle pelli chiuse tra loro che non si parlano le costruisce come vi ricordo che tanto la congruenza non è un problema le costruisce come delle zone di diversi gruppi se io importo scavo 1 ecco qua poi importo scavo 2 e così via e questi per lui di fatto sono già dei gruppi differenti quindi io poi andrò a scavare poco alla volta ripeto potevo già passargli il solido però ci mette molto più tempo a creare zone ma proprio molto più tempo cioè molto veloce invece a passargli la pelle e poi soprattutto è meglio che la mesh se la faccia lui perché FLAC 3D non funziona bene con i tetraedri quindi è meglio che si crea appunto lui la mesh di esaedri e vi lancio già direttamente questo file così potete vedere quello che lui ha fatto qui sta importando i vari solidi spero che la rete sia tale da farvi vedere l'aggiornamento in diretta e lui sta aggiungendo vedete le varie parti questa qui è la parte interna da scavare adesso qui ci mette un attimo questa un po' più grande la parte interna da scavare e poi dopo alla fine manca ancora una parte qui a sinistra e poi alla fine aggiungerà il terreno ecco qua questa è l'ultima parte e poi aggiungerà il terreno sì mi pare che si veda comunque ok adesso arriva il terreno eccolo qua eccolo qui tra l'altro una cosa voglio dire indipendentemente dalla mesh che voi avete fatto in Rhino lui si rifà anche la mesh della superficie quindi in realtà in Rhino vedete io quella del terreno l'avevo fatta molto fitta però adesso se vi faccio vedere quella che ho chiesto a lui è più rada questo lo interrompo perché adesso a costruire le zone del terreno obiettivamente ci mette un attimino ho già i risultati salvati che adesso carica vi faccio vedere ecco qua questo qui magari c'è anche un plot dove si vede meglio vediamo se avevo fatto un plot no lo facciamo adesso find new plot gli aggiungiamo le nostre zone magari gli diamo della trasparenza ok così si vede si vede bene anche qui appunto dicevo ad esempio in queste zone si vede qui la mesh è più rada si vede questo l'ho fatto apposta si vede bene che non c'è la congruenza ma non importa è importante dargli alla fine questo comando che vuol dire attacca le zone lungo le loro facce che di fatto vuol dire è solamente un'indicazione che questa è un'unica griglia questa interna questa esterna un'unica griglia su cui il solutore deve saltare da un punto all'altro per risolvere l'equazione algebrica e quindi niente quello che quello che volevo volevo dirvi riguardo la congruenza era questa ok poi ovviamente come prima passo alle facce posso selezionare le facce per dargli il posso selezionare le facce qui c'era il problema che bisognava abbassare molto quest'angolo qui perché se no perché c'era tutto il terreno qui sotto e quest'angolo era molto piccolo se qui scendiamo tipo a 10 gradi riesce a intercettarmi le facce questo me lo ricordo che c'era questo questione qui esatto qui poi posso ovviamente selezionare le mie facce aggiungere queste facce creare dei gruppi di facce a cui poi tutto graficamente a cui poi applicare i vincoli ad esempio i vincoli piuttosto che l'accelerogramma alla base perché qui c'era anche l'analisi dinamica da svolgere ok va bene detto questo arriviamo all'ultimo esempietto a parte quel video sui building blocks che volevo mostrarvi all'ultimo esempietto allora questo esempio qua che vi mostro adesso in realtà infatti siamo fuori tempo massimo alla grande in realtà non era sarebbe l'esempio del prossimo webinar però siccome anche lato modellazione non solo analisi anche lato modellazione secondo me era interessante da inserire in questo qui di webinar allora ve lo mostro e l'idea mi è venuta da una demo di Flac3D che ho fatto settimana scorsa in cui il prospect tra l'altro già il nostro cliente Midas mi chiedeva la possibilità di inglobare all'interno di Flac3D un edificio in muratura modellato quindi con modellato con elementi brick un edificio in muratura con elementi brick con un legame costitutivo non lineare per vedere eventualmente i cedimenti ed eventualmente la nascita di fessurazioni a seguito del passaggio di una TBM è molto bello proviamo a farlo e questo sarà proprio l'argomento del prossimo webinar però in realtà io ho già iniziato a farlo quindi perdonate perché il modello non è completo ma perché appunto non era previsto che ve lo facessi vedere oggi però voglio farvelo vedere ugualmente quello che ho fatto fino adesso quindi apriamo il file muratura ok e apriamo anche qui i file in rhino allora muratura eccolo qui allora questo qui è l'edificio mancano ancora le solette intermedie e poi in realtà non è perfettamente le pareti dovrebbero tutte arrivare a filo l'una rispetto all'altra è importante perché così le facce dei diversi solidi si toccano e io posso applicare quel famoso comando che citavo prima cioè il zone attach by face cioè attaccami per rispetto della congruenza attaccami le zone lungo le facce in modo che quel comando funzioni bene qui non so non ho ancora finito di tagliare bene a filo tutte le pareti viene ancora in completo però l'idea è questa l'idea è che modellare anche qui con ecco in questo caso tra l'altro una cosa importante è che ho notato è che qui passando all'ambiente geometri anche la mesh già fatta di solidi la diciamo che la mesh in flac 3D le zone in flac 3D venivano generate velocemente penso che sia perché come dire di fatto il passato il termine il mesh a truore in flac 3D nelle pareti deve spaziare solo in due direzioni non in tre perché la terza direzione è piccolissima quindi è molto efficiente anche passare direttamente nell'ambiente geometri delle mesh di solidi detto questo io ho creato dei file STL di ciascuna parete anche qua ve lo faccio vedere tutto però di ciascuna parete in realtà se apriamo anche qui l'ambiente geometri che si apre sotto non so perché no questa si deve aprire di sopra allora close questo wide ok si deve aprire di sopra geometri ok se io importo vedete ho creato i vari STL delle varie pareti ad esempio qua abbiamo la prima eccola qui perché ma per lo stesso discorso che vi dicevo prima perché in questo modo posso assegnare dei gruppi differenti e quindi nel momento in cui ho dei gruppi differenti gli darò un materiale differente uno spessore lo spessore in questo caso no perché lo spessore è dato dalla mesh essenzialmente il materiale in questo caso gli posso dare un materiale differente e poi un'altra cosa che ho fatto separatamente si vede anche qua in in raino il taglio è separare la fondazione tutta questa parte sotto diciamo che il piano campagna parte più o meno da qui da questa parte sotto è la fondazione perché perché la fondazione io devo essere staccata dal resto perché io devo avere modo di selezionare la faccia come vi ho fatto vedere prima e creare l'interfaccia con il terreno e quindi qui poi avrò importato anche in gruppi differenti le varie le varie fondazioni ok per quanto riguarda il terreno potete già immaginare che ho fatto nel terreno il giochino che ho fatto con la galleria cioè se io adesso apro il terreno eccolo qui il terreno di fondazione dentro vedete che ci sono i tagli ci sono i tagli perché questi non sono ancora completi ovviamente perché questi tagli devono andare ad accogliere la fondazione e quindi io poi andrò a creare l'interfaccia tra la fondazione e il terreno quindi adesso lancio direttamente il file che avevo già preparato così vedete appunto la costruzione della man mano viene importata la costruzione ripeto io ho spesso utilizzato anche il Midas NX potete usare l'AutoCAD il Rhino qualunque cosa abbiate già in ufficio andrà sicuramente più che bene per questo tipo di comunque come vedete l'ambiente geometri che è una novità della 7 è molto versatile e quindi vi permette di costruire tutte queste geometrie adesso sto leggendo sotto nella console sta importando ancora la parete 5 la parete 6 e sta costruendo man mano la sua sta fine questa è la parete 7 l'ultima e ora penso che inizi con le fondazioni questa parete ci metteva un attimino ah no questa parete 7 ci mette un po' di più perché questa gliel'ho passata come solido avevo fatto la prova e gli avevo passato direttamente la mesh di solidi invece tutte le altre sono delle pelli ok adesso sta costruendo le fondazioni benissimo adesso c'è l'ultima fondazione e poi il terreno il terreno con i tagli ok benissimo adesso non so quanto ci metteva a finire il terreno magari lo ricarico vabbè tanto più o meno quello che volevo mostrare l'ultimo comando qui sotto vedete il zona touch by face che riguarda però solamente qui adesso poi gli darò ovviamente nel modello definitivo gli darò i gruppi questo zona touch by face gli dirò di farlo solamente tra una parete e l'altra e tra la parete e le fondazioni mentre invece non gli dirò di farlo tra le fondazioni e il terreno perché lì non voglio la touch perché ci voglio mettere la mia interfaccia che appunto rappresenta l'interfaccia delle fondazioni col terreno questo qui questo qui è il modellino nei plot si vede meglio vediamo se l'avevo già preparato sì avevo già preparato un plot si vede meglio ok quindi metterò qui adesso andiamo in model se questo qui lo faccio così queste fondazioni qua posso fare appunto zone face così e qui gli appiccicherò poi una interfaccia con il nome dell'interfaccia gli darò le proprietà dell'interfaccia con il terreno e poi appunto sono sempre queste cose grafiche che non so bene da cosa dipendono e poi appunto l'idea nella l'idea nel prossimo webinar è quello di fare un terreno un po' più realistico anche come dimensioni e poi l'idea è quella di mostrare il userò la galleria la prima che abbiamo visto e per simulare il passaggio della TBM qui sotto per vedere che tipo di cedimenti possa avere la muratura tra l'altro per quanto riguarda l'analisi non lineare della muratura non dimentichiamo che in Flac 3D sono disponibili in Morculomb il Drucker-Prager che sono legami attritivi e quindi mi permettono di simulare gran parte delle tipologie di muratura come la normativa richiede ma esiste ad esempio anche il plastic hardening che invece è un tra l'altro con softening o hardening che è invece un legame costitutivo che basa che ha un criterio di rottura basato sulla resistenza a trazione e che quindi è in grado di simulare le fessurazioni diagonali sulla muratura o al limite attenzione che esiste anche per la simulazione della muratura esiste anche l'ubiquitous joint che nasce per la roccia ma esattamente come succede in Flac 3D scusate in Tridec ciò che è adatto alla roccia può essere tranquillamente adattato anche alla muratura e che va a simulare già la presenza di eventuali fessurazioni presenti all'interno della muratura o potrebbe simulare proprio diciamo le zone deboli della malta rispetto al mattone quindi sicuramente non è un problema il fatto di simulare un materiale come la muratura all'interno all'interno del Flac 3D questo non è assolutamente un problema ok adesso dunque non potrei permettermi ancora di rubarvi del tempo però siete rimasti tutti lì a guardare vedo quindi la cosa mi fa piacere e allora ne approfitto e vi lancio anche questo filmato che era l'ultimo che mostra l'ultimo ambiente di lavoro che è quello dei building blocks che vi dicevo è un ambiente di lavoro non spaventatevi che qua c'è scritto che dura un quarto d'ora andrò avanti veloce i building blocks che è praticamente dicevo uno dei primi ambienti di modellazione però è rimasto ancora anche perché è un ambiente che si può tranquillamente interfacciare sia con l'extrusion sia con il geometry quindi vuol dire che dei modelli che io ho fatto nell'extrusion invece che fare subito l'estrusione posso passarlo nei building blocks per diciamo ottimizzarlo per fargli qualche cosa aggiungere qualche cosa che non sia modellabile per estrusione e la stessa cosa vabbè geometry vabbè è veramente molto versatile non penso che ci sia vabbè no però si può andare ad esempio dai building blocks a geometry ecco sì per aggiungere dei pezzi che magari prendo dall'esterno da un DXF non lo so comunque si possono tra loro interfacciare i comandi vedete sono molto semplici e qui sto facendo vedere la costruzione di fatto di quello che è chiamato un tombotto quindi una galleria artificiale che sarebbe questa parte centrale che aveva ecco lo sto facendo in questo momento che aveva poi una una geometria particolare ai lati per cui c'era questa galleria centrale poi si allargava all'esterno quindi infatto in questa immagine non faccio altro che prendere i lati esterni e trascinarli dandoli vabbè posso trascinarli e poi dargli proprio la coordinata corretta per andare a costruire queste sorte di ali ai lati ecco qua con cui appunto andare a completare la modellazione quindi questa poi era la modellazione finale già tradotta in zone e qui sto semplicemente selezionando le zone che rappresentano il calcestruzzo per andare poi ad assegnarli materiali al terreno circostante ok va bene questo lo stoppo qui va bene ok niente io vi ringrazio tantissimo per veramente siete rimasti tutti fino alla fine quindi questo è già un gran risultato mi scuso perché il webinar è stato più lungo del previsto spero che siano stati argomenti interessanti mi scuso per l'incidente all'inizio per cui non avevo salvato nel file che avevo provato non avevo salvato la galleria e mi interessa che abbiate capito il concetto vi invito anche magari a seguire appunto il prossimo webinar che sarà su questo modello che state vedendo adesso e vi invito al momento dell'uscita ah no beh non ho chiesto se ci sono domande comunque se ci sono domande potete farle nell'apposita nell'apposita scheda e le domande sono anonime cioè le altre persone non vedono e io non lo dico la persona che fa la domanda assolutamente e niente quindi vi invito gentilmente a compilare al momento dell'uscita dal webinar il sondaggio il feedback il sondaggio per il feedback vi ringrazio molto e niente vi auguro buon lavoro è un po' Grazie a tutti.